Raga, benvenuti, anzi ben ritrovati nel mio studio. Ebbene sì, è tantissimo che non mi vedete qui nel mio studio perché tra un po' di vacanze, un po' di lavoro, un po' di registrazioni, un po' di video, spot che sono andato in giro a registrare, un po' il nuovo format che fra poco esce, non con poche difficoltà, finalmente sono tornato a registrare qui in studio. Quest'estate 2021, ma come le altre stati e come succede spesso in estate, mi fa venire un pensiero sempre negativo sui malviventi che girano per le città. E come sapete ho cambiato casa da qualche mese ormai e sto provvedendo a renderla tanto smart. Ebbene già Iale mi era venuta incontro mandandomi la serratura smart che ho installato e vi ho fatto vedere in un altro video. Come avete visto funziona benissimo, anzi la uso tuttora, sono mesi ormai che la utilizzo e mi ha cambiato il concetto di chiudere, aprire la porta. Veramente lo faccio con lo smartphone o a volte lo faccio anche con Alexa. Ebbene Iale mi ha anche inviato la sua telecamera, loro la chiamano front door, cioè da installare insomma vicino alla porta d'ingresso di casa. Perché questo? Perché questa telecamera di sicurezza consente uno il riconoscimento delle persone, due ha una luce e dunque illumina un led dove illumina tutta la zona quando vede un movimento o percepisce un movimento delle persone e poi ha anche la sirena, ovvero se io ho inserito l'allarme sull'applicazione e lei vede un soggetto avvicinarsi alla porta e bene emette dei suoni, il suono di allarme. Ovviamente non è potentissimo il suono, però vi assicuro che il ladro si spaventa e va via. Io l'ho installata proprio all'ingresso di casa, adesso fra poco stacco la telecamera, vi porto con me e ve la faccio vedere installata perché non ce l'ho più qui nel pacco ma è questa la videocamera, eccola qui. L'ho installata in fretta e in furia perché dovevo andare in ferie, ho gestito tutto dall'applicazione e infatti non è successo niente grazie a Dio ma ogni tanto andavo a controllare se tutto fosse a posto, ecco. Nelle vacanze a distanza di chilometri e chilometri ha funzionato benissimo, la connessione non si è persa quasi mai o quelle volte che si è persa è stata colpa del modem che ogni tanto fa i capricci. Funzione fighissima e ogni tanto non mi nascondo che mi diverto a fare gli scherzi a Gabri è la possibilità di parlare tramite applicazione e farmi sentire attraverso lo speaker inserito proprio nella telecamera e dunque facciamo finta che viene un amico e io non sono a casa potrei anche parlargli dalla telecamera e dirgli ciao Andrea non ci sono e lui sicuramente si spaventerà perché non si immagina mai che dalla telecamera posso uscire alla voce però è una funzione abbastanza utile. Nelle altre caratteristiche principali della telecamera posso dirvi che Regis 3080 ha la visione notturna fino a 10 metri e vi assicuro che si vede benissimo e in aiuto ci viene anche il faretto led che vi dicevo si può accendere non solo quando lei rileva un movimento ma dall'applicazione possiamo accenderlo e spegnerlo al nostro piacimento. E wifi infatti la cosa bella è che lei si installa si aggancia alla corrente elettrica e poi non c'è bisogno di ulteriori cavi di rete perché appunto si collega in wifi col modem di casa. Nessun abbonamento per registrare eventuali clip o fotografie ma si inserisce all'interno una micro sd fino a 128 giga e ripeto io mi sto trovando talmente bene che ne vorrei prendere un'altra da mettere a guardare dall'altra parte della casa. Questa ovviamente è più da ingresso perché riconosce i visi perciò se entro io che ormai mi riconosce o mia moglie o i miei bambini lei non mi manda il segnale all'arma. Se vede una persona invece sconosciuta o che non ho salvato nelle impostazioni mi arriva un alert sul telefono e io capisco che c'è qualcosa che non va o comunque che c'è qualcuno fuori la porta d'ingresso. Ecco ragazzi io l'ho installata proprio lì che guarda l'ingresso di casa ed è veramente ottima ripeto vedete sotto ha il lunicino verde quello quando è sera e vede movimenti di persone si accende i led e mentre quello che vedete l'occhiolino che vedete accanto alla telecamera è per la visione notturna raga è veramente splendida come vedete si adatta al lampione nero ed è difficile da vedere per i malviventi ovviamente è resistente a pioggia neve e intemperie varie io l'ho messa sotto la tettoia ed è già ben protetta però se piove e si bagna non succede assolutamente niente. Come vi dicevo possiamo controllare la videocamera di sicurezza tutta dalla sua applicazione vi faccio vedere io ho creato una cartella con casa e tutte tutte le applicazioni che gestiscono tutti i vari prodotti di smart home che ho accendo l'applicazione io l'ho chiamata marcom apro vedete mi da l'ingresso della porta di casa ovviamente sotto ci sono le funzionalità per scattare una foto quella che vi dicevo per parlare se voglio posso andare a registrare in questo momento cosa sta succedendo l'attivazione della sirena e l'attivazione del faretto led sono queste le funzionalità principali di questa telecamera posso andare nel pannello impostazioni e impostare vari parametri nel senso quando quanto tempo deve essere acceso il faro led quando si accende il piano di registrazione e le i volti che va a riconoscere quando registrare se vede una figura umana se vede un animale la raccolta audio del dispositivo se registrarla se non registrarla se è criptografa fare le registrazioni insomma c'è tutto un mondo all'interno dell'applicazione io come vi dico mi sto trovando davvero bene sono ormai mesi perché l'ho installata prima dell'estate e il video volevo non registrarlo subito perché come vi dico sempre faccio le recensioni solo dopo aver provato i prodotti questo lo apprezzate voi lo apprezzano le aziende perché non mi faccio influenzare da nessuno se un prodotto funziona ve lo dico questo prodotto è valido e dunque se dovete e state pensando di installare qualche telecamera presso la vostra abitazione loro sono davvero bravi potete prendere il kit con la serratura smart e la telecamera per l'ingresso della casa raga che dirvi se vi è piaciuto questo video condividetelo mettete tanti like così mi aiutate ancora a crescere ci saranno un sacco di video in questi giorni perché sicuramente uscirò con il mio nuovo format anche se al momento ho registrato solo due puntate perché i ristoratori tanti sono in ferie tanti sono tornati tanti sono spaventati da questo nuovo format da buttare su youtube perciò preferisco farlo vedere aspettare per alcune puntate e poi man mano organizzarmi per le altre ve lo faccio vedere spero che vi piaccia ci tenevo anche a ringraziare palsì che è il mio fornitore di energia e gas ve ne parlerò poi in un video vi spiego come ho cambiato il concetto di bollette di energia gas ve ne parlerò vi farò avere uno sconto se avete piacere a registrarvi a mio nome e mi vedrete adesso più spesso perché le vacanze sono davvero finite ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti